Tutti gli uomini fanno questo test con le donne, attente! In questo video voglio spiegarti qual è un test che gli uomini fanno con le donne a cui devi fare attenzione. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video e registrazioni, seminari del vivo, abbonamento Master Consulting e con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, quali sono, diciamo, qual è il test, tra virgolette, che gli uomini fanno con le donne? Allora, devi tenere presente questo che una delle caratteristiche del maschio è, diciamo, è quello di essere cacciatore, di quello di andare a cercare la preda e quindi le prede possono avere più o elevata difficoltà. Quindi una cosa che gli uomini non sapevano quando i nostri progenitori primitivi andavano a caccia è se sarebbero riusciti a trovare del cibo, se la preda sarebbe stata una preda facile e, diciamo, oppure no. E quindi la prima cosa, che il primo test naturale che gli uomini fanno è come accadeva un tempo, quando incontravano una preda e cercavano di capire, di testare, se sarebbe stata una preda facile oppure no. Quindi questo è il primo test che gli uomini fanno a una donna. È naturale. Quando si dice di uomini ci provano con tutte, in realtà questo provarci con tutte è di fatto un test, non è niente di meno, niente di più che un test. Il maschio vuol sapere, vuol capire, se questa preda è una preda facile oppure no. La cosa peggiore che può fare una donna, ad esempio, è quello di prendere l'iniziativa. È veramente il bacio della morte, il canto del cielo e della seduzione. Un po' come se un cacciatore, diciamo, che se ne sta lì, arriva il cinghiale o la preda e dice dai, eccomi qua, sparami, ci sono, dai, dai. Anzi, addirittura si suicida da solo. Ecco, questo gli impedisce di fare il cacciatore. Come può uno essere attirato da questa cosa? Oggi le donne, prendendo l'iniziativa, credono di essere più attraenti, di essere più seducenti, invece non lo sono assolutamente. Anzi, è esattamente il contrario. Tengono esattamente la cosa opposta. Quindi la cosa peggiore che una donna può fare è quello di dimostrarsi pronta, dimostrarsi disponibile nei confronti di un maschio. E questo test, diciamo, e questo è il test che fanno gli uomini. Quindi un uomo testa la difficoltà della preda. Lo può fare in diversi modi. Ed è evidente che questo è un test a cui devi fare attenzione, nel senso che se tu ti dimostri disponibile, se dimostri di non essere una preda così complicata, beh, avverrà lo sgancio, nel senso che verrai tenuta lì in vita, tra virgolette, ma per un eventuale, come dire, supporto a posteriore. Purtroppo è strano, ma funziona così, nel senso che vado a cercarmi la preda più difficile, perché la preda più difficile è quella che comunque mi dà più interesse, e la preda, diciamo, è la preda più semplice, invece vado a cercarla, vado a cercarla subito, rapidamente. Ecco, questo è fondamentale. Questo è fondamentale per capire che un uomo non può avere, diciamo, la preda più difficile, e quindi la preda più difficile tenderà a coinvolgerlo. Quindi una delle prime cose che fanno gli uomini è testarti da questo punto di vista, testare la tua disponibilità. Occhio che se ti dimostri eccessivamente disponibile, verrai messa da parte, e a favore di prede più semplici, prede più facili, prede che sono più disponibili nei suoi confronti. Sembra strano, ma questo è quello che accade. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari del vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!